Che fosse una persona schietta e con le idee chiare, si era capito e man mano il suo percorso da tronista entra nel vivo, Daniele Paudice ne dà conferma. Dopo una stilettata alle sue papabili corteggiatrici alla prima discesa in studio, il campano ha portato in esterna Gaia e Cristiana. Mora, braccia tatuate, piercing sul viso, Gaia ha catturato l'attenzione del nuovo tronista Daniele perché l'ha vista più vera delle altre. I due si sono presentati, come si fa solitamente al primo appuntamento, la corteggiatrice ha confermato l'interesse e si è raccontata. I due hanno anche parlato del figlio della giovane e spostato i discorsi sul futuro. Anche la prima uscita con la personal trainer Cristiana è sembrata andar bene ma il confronto in studio non è andato altrettanto bene. Daniele ha dichiarato di avere qualche dubbio, mi sembrava troppo a suo agio con le sue telecamere. La conversazione poi si sposta sulle sensazioni del tronista, in merito ad alcune dichiarazioni della personal trainer ovvero che lui non è il suo prototipo di uomo. La corteggiatrice prova a spiegare che nonostante non fosse il suo prototipo, a 31 anni guarda altro ma dopo pochi minuti decide di eliminarla.